Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video su Stranger Things 5 Finalmente abbiamo una novità clamorosa, la più grande di tutte riguardanti Stranger Things 5 Infatti è stato finalmente rivelato un nuovo video che possiamo definire teaser è stato ufficialmente definito behind the scenes, ovvero un dietro alle quinte di Stranger Things 5 dove annunciano che, in pratica, come avevamo già detto già nello scorso video su Stranger Things le riprese sono arrivate a metà della loro produzione e soprattutto ci fanno vedere tante nuove immagini esclusive che ci danno la possibilità di fare tante teorie e cogliere dei dettagli Io ho visualizzato il video, cioè che è stato rilasciato frame per frame e ora, in questo video, vi dirò tutte le cose che appunto sono venute fuori Quindi, partiamo subito! Nella prima ripresa vediamo quella che sembra essere Joyce che oltrepassa il fortino di Will, il Castle Byers e a quanto pare questo si trova nel sottosopra segno che anche l'attrice Winona Ryder, quindi il suo personaggio Joyce si trova nel sottosopra o che è una scena presa proprio da un momento in cui il mondo è già stato completamente invaso Dopodiché i fratelli Duffer impiegati chiaramente a svolgere il loro lavoro, quello della regia Vediamo poi Dustin che si accinge con la sua bicicletta a recarsi in un luogo Quale luogo? Beh, il luogo è chiaramente il cimitero di Hawkins Lo stesso luogo in cui in passato si era recata Max, ad esempio, nella quarta stagione dove c'è la famosa scena dove Levita con Running Up That Chill e in questa foto possiamo vedere l'acconciatura, l'outfit di Dustin che cos'ha di particolare Ecco, qui iniziamo già a fare, a identificare come si vestirà in queste scene perché poi si possono fare altri collegamenti Lo vediamo con un cappello giallo, una maglietta dell'Elfer Club e una giacchetta, una giacca lunga di colore marroncino e dei pantaloni neri Teniamo a mente questo outfit perché Harry scapperà fuori Comunque, qui si sta recando al cimitero Perché? Non lo sappiamo Forse per rivedere la lapide di Billy che è stato luogo, diciamo, è stato teatro di avvenimenti vicini a Vecna, chiaramente, con Max e chissà, forse sta mappando i punti? Questo è probabile visto che infatti, come vedremo più avanti ci saranno altri luoghi che verranno presi che verranno appunto visitati dal nostro Dustin L'alternativa può essere, ad esempio, che il corpo di Eddie Manson sia stato trovato e che quindi sia stato seppellito in quanto morto e che Dustin vada quindi a commemorare, vada a trovare la tomba del defunto del suo grande amico Eddie Vediamo poi una ripresa del Hawkins High School con Go Tiger, l'invito alla squadra di basket dei Tiger quindi della scuola superiore di Hawkins e qui, nella mensa, Dustin, Mike, Will e Lucas mentre fanno chiaramente pranzo parlano, dialogano di qualcosa vediamo che Mike ha, ad esempio, in mano una penna forse stanno intercettando con la radio qualcosa oppure stanno ricevendo delle informazioni da qualcuno chi non lo sappiamo può essere, ad esempio, Suzy e Dustin ha lo stesso outfit che avevano visto in precedenza mentre si stava recando al cimitero poi immagine che raffigura un po' tutti i protagonisti di Stranger Things vediamo Joyce, vediamo Will, vediamo Nancy, Jonathan, Steve, Lucas, Mike e Dustin qui possiamo notare davvero tantissime cose infatti non ho detto un personaggio che è presente nella scena infatti tra Will e Nancy c'è una figura con una giacchetta blu in un frame possiamo notare chiaramente che questa persona ha le trecce gialle e si tratterebbe quindi, molto probabilmente, di Holly Wheeler la sorella di Mike e Nancy che a quanto pare, secondo le teorie che abbiamo fatto anche qui sul canale verrà, scomparirà forse verrà rapita da Vecna altri due dettagli che possiamo notare sono gli outfit di Dustin e di Steve l'outfit di Steve infatti è familiare è lo stesso che aveva nel momento che sono state fatte le riprese in cui è stato fatto il Chuck che aveva annunciato l'inizio dei lavori e assieme appunto a Maya Turmanok Dustin invece ha il suo outfit che abbiamo visto già nel corso del trailer ma la cosa più sconcertante la cosa più clamorosa è che è molto tumefatto in faccia ha infatti del sangue sembra che abbia il naso e il labbro rotto come se fosse stato picchiato da qualcuno da chi? non lo sappiamo però a quanto pare nuovamente Dustin si metterà nei guai poi un'immagine del laboratorio di Hawkins nel sottosopra invaso dalle tenebre dai tentacoli che attanagliano sottosopra e sembra proprio che quello che si vede nello sfondo dietro la porta di questo laboratorio di Hawkins è proprio la stanza Riccobaleno il luogo che fu teatro dello scontro tra Vecna e Undici quello che confinò numero uno nel sottosopra e che rivelò la vera natura di Undici vediamo poi un'immagine di questo edificio gigante di questi seri edifici giganteschi che però a quanto pare sono il set dove vengono girati gli episodi dove vengono girate le scene infatti ho notato che le auto sono quelle più recenti sembra esserci ad esempio una Tesla chiaramente se vuoi ambientare una serie tipo degli anni 80 metti delle auto come stanno facendo degli anni 80 non una Tesla e il capannone che vediamo all'estrame destra sembra essere quello che poi vedremo poco più avanti quello che si percepisce comunque da questa scena da questa immagine è la grandezza la magnificità dello spazio riservato ad Atlanta per svolgere le riprese di Stranger Things 5 un budget infinito praticamente per questi episodi poi di nuovo Steve con Robin nell'iconica scena che appunto ha dato il via alle riprese di Stranger Things che abbiamo già visto più volte vediamo poi un buco una sorta di tunnel un richiamo a quanto pare a quello che abbiamo visto nella seconda stagione di Stranger Things o anche nella prima in realtà e che quindi in questi tunnel forse i nostri personaggi preferiti dovranno rientrare per cercare forse Holly vediamo poi un addetto ai lavori mentre unge di sangue finto chiaramente delle corde questo per dare diciamo risalto al sottosopra è la sua natura di terrore poi un'immagine che ci fa scendere una gocciolina con Millie Bobby Brown che spiega che sono passati ben dieci anni da quando erano iniziati i lavori e da quando termineranno mentre entra nello stage undici numero non casuale chiaramente per l'attrice infine Max che viaggia per gli enormi guardaroba presenti all'interno appunto di questo di questo magazzino e solleva a un certo punto una felpa una felpa azzurra con delle strisce gialle non una felpa casuale chiaramente quella che indossava nel corso della quarta stagione quando è viaggiata a suo malgrado nel sottosopra vediamo poi di cartelli cos'è ad esempio Lucas il tecchitato con il numero 7 e che quindi a quanto pare utilizzerà davvero tanti outfit o che forse dovrà scegliere non lo sappiamo comunque anche qui proprio il magazzino è gigante per questi per questi lavori e sono contentissimo di questo poi Noah Schnapp ovvero Will nella sua bella sedia da regista mentre aggiusta qualcosina al suo copione infine nuovamente le biciclette che sembrano essere quelle di Mike ovvero quella da corsa come l'avevamo definita una volta scorsa e quella blu forse è quella di Dustin finalmente tornano poi in scena i walkie talkie del party che non erano mai mancati ma che ne sentivamo la mancanza perché non li vedevamo ormai da anni davanti ai nostri schermi è bello rivederli vediamo poi un signore che ha tutta l'area di essere un regista e che di fatto lo è il suo nome è Frank Darambod che a quanto pare sarà il regista di ben tre episodi o meglio dire almeno tre episodi perché a quanto pare dei primi sei episodi sono stati rivelati i tre registi che sono Sean Levi per un episodio due episodi per i fratelli Duffer e ben tre per Frank Darambod chi è Frank Darambod? beh è un regista e sceneggiatore che tra le tante cose ha diretto The Walking Dead la famosissima serie tv è Il Miglio Verde un film a cui sono davvero molto legato un film che mi piace tanto del 1999 ispirato alla storia al libro al romanzo di Stephen Hawking anche qui ritorna diciamo una sorta di richiamo a Stephen Hawking Stranger Things Il Miglio Verde e tutta la dietrologia che c'è dietro Stranger Things collegata chiaramente a Stephen Hawking tra l'altro lo volete un video con diciamo tutti i libri a cui da cui Stranger Things ha liberamente preso ispirazione anche per approfondire un po' le tematiche se vi piace Stranger Things fatemelo sapere nei commenti perché anche se sarà un lavorone bello lungo ci posso lavorare vediamo poi 11 con uno sguardo molto molto severo arrabbiato frustrato e anche concentrato e alle sue spalle vediamo un edificio grigio che ha tutta l'area di essere la stazione radio di cui avevamo parlato in precedenza negli scorsi video che è stata luogo di diverse riprese è stata proprio la location dove sono state girate una serie di riprese di scene questo luogo sembrerebbe essere importantissimo e come per la prima e la quarta stagione lo è stato il laboratorio di Hawkins nella terza stagione lo Starcourt Mall la stazione radio sarà forse il luogo cardine della quinta stagione vediamo poi Natalia Dyer la terza di Nancy con Charlie Heaton l'attore di Jonathan Byers che se la godono se la spassano nel set delle riprese e chissà se queste saranno i loro outfit è possibile vediamo che non tutti hanno praticamente dei cappotti non che mi dispiace perché li vedo molto bene poi è un outfit chiaramente anni 80 per come sono vestiti ma hanno davvero un discreto stile quindi sicuramente non ci dispiacerebbe vederle questo questo stile per i due ragazzi nella nella quinta stagione poi finalmente rivediamo Lucas e Max assieme chissà se questa scena o meglio una scena simile a questa con i due ragazzi Lucas e Max i due piccioncini con il loro amore che si era sviluppato nelle ultimissime stagioni ecco se potremmo rivederli parlare come stanno facendo qua nei dietro alle quinte perché come sappiamo Max è in coma è un dilemma se lei tornerà o meno a riprendere le forze o banalmente anche a camminare a uscire dal coma lo speriamo e sicuramente sarà un avvenimento che si farà commuovere anche per come si era sviluppato il personaggio di Max e anche come si è sviluppata la redazione tra Max e Lucas vediamo poi i gemmi Campbell Bauer l'attore di Vecna mentre si sta sedendo per essere truccato imparruccato alcuni vedendo il volto hanno detto ecco sì finalmente vedremo lo vedremo all'opera in scena magari in qualche flashback oppure tornerà nella terra col suo vero volto bene col vero volto potrebbe tornare ma non nel momento in cui lo stavano truccando perché possiamo vedere dal riflesso dallo specchio che è presente la maschera di Vecna e poi anche posato su questo tavolo ci sono dei tentacoli chiaramente che vanno a comporre quello che è quello che è il volto e anche il corpo il fisico di Vecna poi nuovamente ancora il sottosopra vediamo poi l'attrice di Karen mentre anche lei si accinge ad essere truccata imparruccata e nuovamente i fratelli Duffer vediamo poi Linda Hamilton un'attrice che interpreterà un personaggio ancora sconosciuto ma che in queste riprese sembra essere distinto una persona a quanto pare ricca che forse sta cercando di mantenere anche l'anonimato vediamo con appunto il cappello con gli occhiali da sole forse la direttrice della stazione radio non lo sappiamo ma sicuramente dal Laura che emana sembrerebbe appunto essere un personaggio importante nel senso essere proprio una persona di rilievo all'interno del mondo di Stranger Things vediamo poi Freya Ferguson l'attrice di Erika Sinclair la sorella di Lucas e poi una scena bellissima con Dustin Mike Lucas e Will finalmente assieme che mettono il braccio un po' alla tre moschettieri i quattro moschettieri di Stranger Things è una scena bellissima perché praticamente era dalla seconda stagione che non si vedevano i quattro personaggi principali del party riuniti come veri amici qui abbiamo due dettagli degni di nota che sono l'outfit nuovamente di Dustin lo stesso che praticamente stiamo vedendo da inizio video a inizio trailer questa volta sembra avere la maglietta che è distrutta la maglietta è stata graffiata o che si è andata a intrappolare da qualche parte oppure ha avuto un avvicinamento con qualche essere del sottosopra forse un demogorgone non lo sappiamo oppure magari si è incastrato in un albero e sciccato dalla bici può essere l'altro dettaglio importante è il luogo dove si trovano infatti il tavolo di legno da picnic che vediamo sembra proprio essere quello dove nella quarta stagione Eddie Manson si trovò assieme a Chrissy il luogo dove praticamente abbiamo visto la prima allucinazione che manifestò Vecna e che quindi qui in questo caso confermerebbe la teoria che sta facendo del fatto che Dustin fa un po' i tour dei luoghi dove si è visto apparire l'orologio di Vecna che segna un po' le ultime ore di vita delle persone che vedono che appunto percepiscono questo orologio questa illusione poi vediamo Holly nella sua camera con le luci che iniziano a tremare un chiaro segno che il sottosopra è vicino che il sottosopra ti ha preso ti ha rapito ti ha colpito quindi in questo caso Holly a quanto pare si andrà nel sottosopra rapita da Vecna secondo me dal mio modestissimo punto di vista questo è un chiaro segno che la teoria è confermata Holly verrà rapita da Vecna tra l'altro io personalmente sono anche colpito dalla scelta dei colori che è stata fatta per Holly a quanto pare è un amante dell'arcobaleno arcobaleno che non è un simbolo casuale almeno i colori dell'arcobaleno non sono casuali dal momento che la stanza dove furono fatti gli esperimenti a undici ma anche a tutte le altre cave del laboratorio di Hawkins era proprio la stanza arcobaleno magari non lo so forse sarà questo l'elemento che farà scatenare l'ira di Vecna staremo a vedere poi possiamo vedere Holly con un volto distrutto affranto come se avesse visto davanti a lei qualcosa di terribile che cosa? possiamo solo che immaginarlo forse la morte di una persona a lei cara o forse di un animale vediamo poi uno dei fratelli Duffer mentre sta parlando con Erika Sinclair e con un attore con un suo amico a quanto pare un suo compagno di classe forse che non avevamo mai visto prima di chi si tratta? a quanto pare il suo nome è Jake Connolly un attore un giovane attore che sarà una new entry di Stranger Things 5 quale sarà il suo ruolo sarà di rilievo non lo sappiamo vediamo solo quest'immagine però a quanto pare aiuterà Erika nei loro tentativi di replicare quello che in precedenza nelle passate stagioni e che continuano a fare faceva il party quindi un po' avventurarsi nei boschi andare alla scoperta di cose nuove poi scena al cimitero con uno dei fratelli Duffer con dietro di lui Dustin con chiaramente la maglietta strappata e i tigers o almeno due elementi dei tigers dove si trovano al cimitero appunto e qui diciamo la possibilità di un avvenimento successo all'interno in questa location potrebbe essere questa è proprio immediata nel senso l'ho elaborata velocemente Dustin si reca al cimitero nella scena che abbiamo visto in bicicletta per forse salutare andare a trovare Eddie Manson di cui il corpo è stato appunto ritrovato e lì avviene appunto l'imboscata dei tigers che sono i personaggi gli antagonisti di Eddie Manson nella quarta stagione e che ne danno di santa ragione a Dustin per essere un suo alleato non lo sappiamo a quanto pare sembrava che l'epilogo di Eddie Manson fosse stato positivo un po' come un eroe però forse per i tigers diciamo l'odio represso non è passato vediamo poi Jonathan mentre proietta qualcosa o un filmato o delle diapositive forse frutto di alcune sue ricerche fatte nel passare del tempo quei giorni e che le sta quindi illustrando al resto del party al resto del gruppo poi vediamo una rarissima scena di Nancy e Mike assieme i due fratelli la sorella maggiore e Mike quello intermedio con uno sguardo molto molto triste cupo negli occhi possiamo vedere negli occhi di Nancy che cosa ha causato però finalmente l'avvicinamento tra i due forse il fatto di dover fare una missione assieme forse sono stati nuovamente legati dal dover trovare la loro sorellina Holly che a quanto pare scomparirà la tristezza che si percepisce potrebbe anche essere forse collegata alla faccia che avevamo visto di Holly che vedeva qualcosa apparentemente di brutto sconcertante o quindi la morte di un altro loro parente o proprio la tristezza nei loro occhi per l'apprensione per quel che dovrà succedere alla loro sorellina vediamo poi Brad Gelman aka Murray Bowman con uno swag estremo chiari da sole di Gucci poi cappellino nero proprio qui si vede che è il migliore di tutti però chiaramente tornerà anche Murray e di questo sono contentissimo poi una scena insolita nel senso Robin e Joyce assieme mentre sembra che stiano lavorando con qualcosa di elettrico delle caldaie anche sopra Joyce chissà cos'è che li sta relegando nello svolgere questa missione poi finalmente vediamo anche Sean Levy l'altro produttore esecutivo di Stranger Things che è presente dalla prima stagione assieme a Steve Harrington quindi è bello come ridono e scherzano anche per il legame che si è creato nel corso delle stagioni vediamo poi Ross Duffer mentre spiega a Steve e anche Jonathan e sappiamo che qui dentro rappresenta anche Nancy dentro questo veicolo gli spiega appunto la scena quello che deve fare e qui ci ricolleghiamo alla foto che avevamo visto qualche mese fa dove vedevamo nello sfondo Jonathan e Nancy e sapevamo comunque che si trovavano all'interno dell'auto di Steve comunque ne abbiamo la conferma da queste immagini vediamo poi anche tutti gli studenti correre all'interno della scuola con loro anche Mike e Lucas con delle facce sembra abbastanza preoccupate apprensive per qualcosa forse una tragedia poi un'altra scena sempre nell'area picnic del bosco della foresta di Hawkins che abbiamo visto anche in precedenza con Mike Lucas Dustin e Will e qui sembra quasi che Will o veda qualcosa di incredibile o abbia una visione proprio come lei beccherissi nella quarta stagione nello stesso luogo e che appunto forse confermerà in parte una di quelle teorie di Dustin adesso qui sto vagando molto però possiamo vedere Mike andare dritto verso un punto cioè proprio dissociarsi dal resto del gruppo camminare verso un albero e guardare in alto stesso comportamento che hanno avuto gli altri personaggi quando vedevano appunto l'orologio della casa Krill poi scena bellissima finalmente vediamo Hopper il nostro sceriffo preferito con delle vesti molto particolari lo vediamo infatti in queste riprese con la barba molto lunga poi un cappello un giubbotto forse di pelle una sacca e soprattutto un fucile d'assalto sembrerebbe quasi che Hawking si troverà in uno stato di emergenza proprio di guerra e che forse reperire alimentari quindi mangiare bere sarà difficile è molto possibile quindi questo provocherà anche a quanto pare proprio il lato più istintivo più primitivo dei nostri personaggi lato che sicuramente non manca in Hopper abbiamo già visto appunto questo anche nella passata stagione quando si trovava in Kamchatka ha saputo comunque tirare fuori una forza che non ha avuto forse uguali finora in Stranger Things qui vediamo Nancy, Jonathan, Steve e Dustin che vanno con delle torce da qualche parte sicuramente dietro di loro possiamo vedere a terra quelle che sembrano essere appunto dei tentacoli del sottosopra segno che forse i quattro si stanno avventurando nuovamente in un'area che è stata dominata dal sottosopra o proprio sottosopra stesso è possibile con le torce forse per esplorare diciamo location luoghi che erano stati mostrati nelle passate stagioni che come sappiamo sono rimasti fermi ancorate a quegli anni chissà chissà lo scopriremo sicuramente il lato esplorativo di questi personaggi è ben manifesto lo conosciamo oppure l'altra teoria è che vadano in qualche modo a cercare quello che è il corpo di Eddie Manson che a quanto pare era rimasto nel sottosopra questa immagine ci mostra poi un uomo forse dell'fbi della SWAT anche in questo caso si tratta di un nuovo attore ovvero Alex Brooks e a quanto pare sarà appunto una new entry di questa quinta stagione finalmente poi vediamo Vecna con la sua camminata da villain supremo di questa serie tv che si sta ricando diciamo con la sua nonchalance incontro a qualcuno probabilmente ha una sua preda vediamo poi quello che sembra essere il giovane il vecchio Will Byers quello della prima stagione stesso outfit stessi capelli mentre cade giù cade giù diciamo l'interpretazione che io ho dato è che si tratta di un flashback della prima stagione dove appunto viene ripercorsa la scomparsa di Will Byers cosa era successo a Will nello specifico quando si trovava nel sottosopra come è stato contagiato perché ha avuto questo contatto lui col sottosopra che poi l'ha influenzato per il resto della sua vita forse ci verrà spiegato nella quinta stagione proprio riprendendo chiaramente un nuovo attore che vestirà i panni del giovane Will del piccolo Will della prima stagione finalmente poi undici con la sua iconica posa con la mano in avanti pronta a scarventare qualcosa o qualcuno usare quindi la telecinesi il suo superpotere principale anche qui outfit particolare e la location è indistinguibile è nel sottosopra si sta sfidando forse con un demogorgone con Vecna comunque con un nemico perché utilizzare la telecinesi è tipo la tecnica diciamo più cattiva la più forte la più potente che chiaramente verrebbe utilizzata solo per combattere i nemici poi questo video qui dietro le quinte questo teaser termina cosa ci dirà ancora riguardo alla prossima stagione beh lo scopriremo molto molto presto ci sono tantissimi dettagli c'è stata davvero tantissima carne sul fuoco in questo video ma soprattutto grazie a quello che ci è stato rivelato da Stranger Things e ci sono anche dei dettagli che voi avete notato delle cose particolari o anche delle vostre teorie beh ditemele assolutamente scrivendomele qui nei commenti perché chiaramente i video di Stranger Things non termineranno qui quindi scrivetevi per non perdervene neanche uno se non siete ancora rischetti chiaramente e vi invito anche a lasciare un mi piace per sostenere questo progetto di video di Stranger Things perché più io vedo il vostro supporto e più si va avanti con la pubblicazione di video di Stranger Things c'è un motivo in più so che vi piacciono c'è il vostro apprezzamento e quindi diciamo vanno anche a dare diciamo un senso al canale a nutrirlo quindi io vi ringrazio sin da ora vi ricordo anche di seguirmi su Instagram il mio nome è Parisi trattino basso Nicolas e di inviarmi tutte le vostre teorie per oggi è tutto adesso seguirà chiaramente una programmazione incentrata sull'uscita che ci sarà domani quella di Cobra Kai 6 e poi appunto appena ci saranno tante altre novità riprenderemo proprio a bomba con Stranger Things noi quindi ci vediamo al prossimo video ciao